Musica Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale E si ragazzi, torniamo con Motociclette Mechanic Simulator 2021 Ragazzi, torniamo con Peppino Con Peppino, con l'altro negozio, l'altra officina dalle due ruote Ragazzi, ci siamo conosciuti nello scorso episodio che avevamo completato un po' tutti gli incarichi E infatti, come potete vedere, la nostra officina è completamente vuota Ragazzi, vi voglio dire grazie per il supportazzo che mi state dando sotto ad ogni video Ragazzi, grazie mille anche sotto ogni live, ogni post, anche sul disco, su TikTok, Instagram Ragazzi, ovunque, grazie veramente di cuore ragazzi Vi invito veramente a condividere il video ragazzi Spolliciate in su, condividete questo video, iscrivetevi al canale Attivate la campanella per non perdervi mai nulla ragazzi In descrizione tutti i link sono gratuiti, non vi costa nulla, passateci ragazzi E occhio sul sito mio ragazzi, xpassx.it Tante novità in arrivo, due articoloni pazzeschi, soprattutto uno Che poi ci andrò a fare anche un video dedicato che uscirà sul canale Quindi rimanete sintonizzate anche sul sito internet ragazzi Che usciranno tante recensioni, ma soprattutto notizie degli usciti dei prossimi videogiochi E anche notizioni incredibili Non voglio spoilerarvi nulla, quindi tenete d'occhio un po' il sito Volevo anche buttarvela lì Però banda le cianci, siamo in un video, adesso pensiamo al video Voglio solo un po' un attimo dirvi questa cosa Perché stanno uscendo anche delle chicchette sul sito Allora ragazzi Prendiamo un prossimo lavoro Allora, cosa vogliamo fare? Allora, questo c'è un problema Il bracket paid Allora, no, la motocross Già l'avevamo fatto Prendiamo qualcosa che non abbiamo fatto Questo c'è un problema Tecnica problema Hello motocross technical problem view long time Ah si, giustamente Finiscono che ci hanno il tempo Va bene, prendiamo questo Dai Prendiamo una moto E prendiamo un incarico A meno Peppino comincia a metterci le mani ragazzi Cominciamo a metterci le mani noi Oh, che bel chopper Guardate che bellezza Signori Allora Cosa ha fatto? Ragazzi, sposto un attimo la webcam di qua Perché dopo voi non vedete la lista E dobbiamo vederla insieme Quindi sposto un attimo la webcam Ho spostato la webcam Allora, dobbiamo fare Dobbiamo controllare il braking Quindi i freni Dobbiamo controllare i freni Se sono tutti giusti Quindi il braking 70 Non è forse dobbiamo controllare Forse Vediamo un po' Qual è il pezzo che dobbiamo vedere Allora, abbiamo il force leg right Quindi la forcella Lato Vediamo un po' Leg Dove stava il pezzo? Ragazzi, dobbiamo verlo bene Poi abbiamo Un icon ride sometime Vabbè, poi dobbiamo vedere altre cose E dove sta? Vediamo un po' Forse sarà qua Sarà qui? Vediamo un po' Forg leg Eccolo qua Forg leg right Quindi dobbiamo cambiare Questa qui Che ovviamente è logo Ora vedete ragazzi Peppino subito un occhio incredibile Sino il Peppino Lui Già visto, guardate Quindi dobbiamo cambiare Questo E poi dobbiamo vedere Un attimo il braking light Qual è? Braking light front No, braking 70 Secondo me braking 70 Sarà o qualche disco O qualche pastiglia del freno O della pinza Cioè, due sono le cose No, non è manco il freno Forse una manopola Sarà forse la manopola del freno? No Che cosa può essere? Bre Vabbè, mo Andiamo a vedere sicuramente cos'è Quindi facciamo una cosa allora Prendiamo subito Lo shop Qui dobbiamo comprare Forg Sì, perché sto scrivendo Eh, Peppino con la tecnologia Ragazzi, mo gli hanno dato anche il tablet Qui proprio Forg Leg Rag Sì, come cazzo ho scritto Rag Allora, questo qua ci serve ragazzi Eccola proprio qui Quella standard ci serve Quindi Andiamo a comprare Poi Vediamo che cos'è questo Brake Braking 70 Non è niente Dov'è questo Braking Ragazzi Vabbè Vabbè Dopo Andiamo a vedere Intanto Cominciamo a cambiare un primo pezzo Cominciamo a cambiare un primo pezzo Poi vediamo Allora, intanto facciamo Eh, di sempli Ah, dobbiamo smontare Però aspetta Prima 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 Perché non me la fai smontare Cioè mi fai Ah, prima il paraurti Giustamente Giustamente Come cazzo togliamo la forcella Se non togliamo il paraurti Vabbè Cominciamo a smontare Ok Poi Eh Perché non mi fai smontare la forcella C'è qualcosa che non va Ok, smontiamo qua Eh sì La pinza del freno Dobbiamo smontare Le pasticche Ce le possiamo lasciare Ok Togliamo questo Ok Ci andiamo a rimettere Subito quella nuova Subito quella nuova Ci andiamo a rimettere Assembly Ok Qui c'è almeno già un pezzo Ragazzi Lo togliamo dalla lista Eccolo qua Andiamo a rimettere Questa bella nuova Nuova Eh, forse se l'ha scaricato L'ammortalizzatore Forse tante Tipo Tante Tanto usura Alcune volte Può danneggiare Mo' ci dobbiamo rimettere Pure l'olio Il pistone Ragazzi Quindi Eh Non ce ne scordiamo Se no Poi Poi ci fa come l'altra volta Ma che cazzo Non ci fa dare il lavoro Poi Peppino Si cervella per trovare queste cose E poi capito Non Allora Per mettere adesso l'olio Dobbiamo fare così Andare qua E ricaricare A pressione l'olio Così al pistone Così almeno Ha la compressione giusta Ragazzi Perché Peppino è professionale Voi lo sapete che è professionale Peppino Controlliamo anche Controlliamo anche l'altro pistone Non so se No Perfetto Allora adesso Dobbiamo controllare Se tutto funziona Quindi Ehm Controlliamo Però ragazzi Sto Sto braking 70 Non so che cos'è Braking ragazzi È un Qualcosa di freno Dovrebbe essere Però Fammi vedere Per questo C'ho anche il freno dietro C'è anche un pedalino Che frena La mo Cioè Le moto C'hanno C'hanno il freno avanti Frizione E dietro C'hanno quello per frenare Non vorrei che sia il Quello per frenare qua dietro Ma Ehm Però io non lo vedo Braking Vediamo un po' ragazzi Comunque È roba di freni Comunque Brake Forse dobbiamo fare Una prova su pista Eh Possibile Possibile Dobbiamo far Prova su De che ci manca Forse l'olio Vediamo È possibile L'olio Dove si ricarica pure No Oddio Però l'olio L'abbiamo ricaricato Forse questo Abbiamo un po' Aspettato ragazzi Ma La moto si accende Però Ma Vabbè Forse sarà Onge cover Vabbò raga Proviamo la porta su pista Forse dobbiamo testarla Proviamo Ehm Mappa Proviamo La pista Proviamo questo tracciato Ce la fa portare Sicuramente dobbiamo fare qualche Qualche test sul circuito Che Peppino Questo è di un Un suo cugino Lavora al porto E ha detto Guarda per favore Siccome hanno preso Una giornata che non lavora nessuno Gli ha detto va bene Per mezz'ora ci puoi andare Quindi Perché solo perché Peppino C'era suo cugino Che lavora lì al porto Da tanti anni Se no ragazzi Doveva pagare anche una pista Per poterlo provare In questo momento Peppino non so Può permettere ragazzi Perché Dall'altra officina Anche di auto Ha dovuto cacciare un capitale Enorme Perché di là abbiamo quasi Rischiato anche l'altra officina Quindi non vuole cacciare Troppi soldi In questo momento Peppino non vuole tanto rischiare Per fortuna Che c'era suo cugino Che lavora qui al porto Gli ha detto va bene Per mezz'oretta Un'oretta Qua ci puoi andare Ci penso io con la guardia Capito E mo ci fa anche Provare sta moto Vediamo ragazzi Perché dice Braking 70 Forse deve arrivare A una percentuale Di 70% Di frenata Mo vediamo Mo la tiriamo E vediamo Forse in base a questo A questo test Ci dice che bisogna Cambiare i cosi Non lo so Guardate Peppino Ah si vedi Ci fa fare i test Madonna Ma è una cazza sta moto Ok Madonna Ma sta moto non gira Uuuuh Maronna mi Guidabilità 0,4 Madonna Madonna Raga ma non si porta sta moto Non si porta No raga Sterza manco Ma che cazzo Prova Guardate Peppino Quanto è bello Guardate Peppino Quanto è bello però Si raga ma E E E' impossibile Portare sta moto Allora Slalom abbiamo fatto Sospensioni Toto 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 Piano Gira Gira Ma che dobbiamo Facco Allora Allora Ce l'ha dato Vediamo un po E Vediamo un po Ragazzi Abbiamo fatto tutti i test Ma quanto è bello Raga sta moto non si porta però Però Peppino sul chopper Fa la sua figura Ragazzi Guardate Peppino Un po' Troppo forte Raga però Sai la cosa che non mi piace C'ha una manovrabilità Molto strana Cioè Abbiamo dovuto frenare Dobbiamo andare Manca di prima Ma neanche Ma uno o due chilometri orari Per poter girare Perché sono un macello Macello Ragazzi Però Peppino Diciamo che Peppino La moto non si porta La moto è più Peppino è più Per le quattro ruote Però se la cava anche due ruote Ragazzi è un gran meccanico Porca puttana È un gran meccanico Se avete consigli Avete dei Avete dei problemi Sotto i commenti Iscrivete che Peppino Vi può anche aiutare Lato meccanica Signori Vabbè Torniamo alla nostra Officina Barra garage Della casa di Peppino Ve l'ho detto ragazzi Questa è la tipo Allibita Ma non è a norma Non è a norma Ve lo dico Invece l'officina Che c'è di là delle auto È annormissima Che ha pagato anche Le dicesse Fior fior di soldi Però adesso Si è dibitato Un po' di là Quindi di là Sta un po' così Adesso Con le braccette Qua invece Quindi ecco Che ha detto Al cugino Gli ha detto Fammi provare Una mezzaretta A sta moto Ci bisogna anche soldi Capite Allora Noi abbiamo fatti i test Ragazzi Però Non ce l'ha dato Braking 70 Proviamo a fare una cosa Proviamo a controllare Proviamo a controllare La Motor status Vediamo un po' Se c'è tutto a posto Qua ci dice Comunque Tutta Le statistiche Comunque Della Della moto Vediamo se il braking Arriva a 70 Se noi Dobbiamo cambiare i freni Elettronica Track Accessori Secondo me ragazzi Dobbiamo cambiare i freni Vediamo un po' Ma Non lo so Vediamo un po' Bre Allora Braking ragazzi Arriva a 64 Dobbiamo Aumentarli La Frenata Quindi Per aumentargli la frenata Secondo me Dobbiamo cambiargli Le pasticche Li proviamo a cambiare Le pasticche Ragazzi Che dobbiamo fare Vediamo a che condizioni sono Queste pasticche E Vediamo Possibile pure che Allora Questa sta Proviamo un po' Le pasticche Quando stanno 46 No Aspetta Non abbiamo visto Ok Proviamo a comprare Nuovo Proviamo a comprare Nuovo Vediamo un po' Break Allora Aspetta Aspetta Peppi Ragazzi Facciamo vedere L'inventario Allora Breakpad Front Right C'ha Franci C'ha Le Franci Quindi Dobbiamo Metterci Quelle un po' Più Cazzute Quindi Allora Facciamo una cosa Quindi C'ha le Franci Noi ci andiamo a comprare Allora Break Break Ci andiamo a comprare Allora Vedi Ci sono anche le pizze Allora Le pizze però Noi ci andiamo a fare una cosa Allora Ma quelle più aggressive Eccole qua Dovrebbe essere queste Quelle più aggressive Le slick Costa un bel po' Però le slick Vabbè Proviamo a comprare Una di queste E una di queste Vedete Aumenta il frenaggio Più 6 E andiamo a comprare Anche le Le pinze In teoria Queste sono le pinze Ma non è che dobbiamo Cambiare pure i dischi Il disco del freno Disco front Disco re Secondo me Sì ragazzi Quindi Proviamo a cambiare Solo quello un attimo Di front E vediamo un attimo Come Come reagisce Mo ci andiamo a investire Un po' di soldi Tanto per fortuna Abbiamo quasi 10.000 dollari Vediamo un attimo Come va Facciamoci questa prova Ragazzi Facciamo questa prova E Togliamo anche Eh no Però devo smontare Tutta la Devo smontare Tutta la forcella Così Eh vabbè Raga smontiamola E l'olio ce lo rimettiamo Non fa niente Tanto per fortuna Peppino Ce ne ha A quantità industriali Di olio Di queste cose qua Quindi ce ne andiamo a rimettere Non fa niente Togli Togli Comunque ragazzi La moto non sterza E l'handling Dobbiamo portarla a 54 Quindi sarebbe La sterzata La sterzata Non lo so ragazzi Dobbiamo Non so Cosa Cosa cambiarli Sinceramente Ok Facciamo assembly E ci andiamo a mettere Questo qua Quindi andiamo a mettere Un disco Più Più che Comunque Garantisce La frenata Penso solo questo Per il momento Poi Andiamo a vedere Le statistiche Penso che comunque Con le statistiche Vediamo Se abbiamo migliorato O no La frenata A meno Tanto deve arrivare A 70 Quindi ciò dice subito Se è arrivato o no Se dopo non dobbiamo Cambiare anche le pasticche Dietro Ma penso di sì E che facciamo Cambiamo solo Una parte Allora Ci mettiamo Questo Eh Spostati però Scusami Ah Non abbiamo comprato Questo Però aspetta Eh Scusa Che stiamo a fare Allora Break No Che ho fatto Andiamoci a prendere Quelle più cazzute Quindi Brack Pant Front Left Quindi questa Qua ci serve Poi ci serve Poi vabbò Raga Poi vediamo Se dobbiamo Comprarle anche Per le altre Ok Andiamo a mettere Questa La pinza Ci andiamo a mettere Questa qui E vediamo Un attimo Se Abbiamo aumentato O no La frenata Sì 70 ragazzi L'abbiamo aumentata Solo cambiando Un disco E delle pastiglie Quindi tanta roba La facciamo Intanto Riendiamo A Ripompare Il L'olio E mo ragazzi Dobbiamo alzare L'handling 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 Ragazzi Quindi è la E la manovrabilità Non lo so Sarà un problema Di forcella La forcella Fammi vedere Se si può cambiare La forcella Nel caso Gli la cambiamo Perché c'è qualche problema Che non sterza Sta forcella Tom clap Vediamo un po' Vediamo un po' Ragazzi Tom Ok Ok L'abbiamo trovate Ci possiamo provare A mettere Questa forcella Che dite Ci mettiamo Da questa Che aumenta Aumenta Non aumenta Un cappero Però Allora Vedi Non è questo L'handling Che migliora Perché andiamo A investire Oddio Proprio 172 euro Possiamo provarci Però non so Cosa Cosa li va A migliorare Questo Repare Non 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 fa nessun Impatto E allora Mi fa pensare Che non è la forcella Allora Potrebbe essere I pistoni Potrebbe essere I pistoni Proviamo Forgleg Vediamo un po' Ragazzi Potrebbero essere I pistoni Vediamo un po' Che cosa Cosa va a migliorare Questo Eeeh L'handling Quindi sono i pistoni Allora E allora Facciamo una cosa Ne compriamo Uno E due Signori A sto punto Facciamo Questa prova Quindi Smontiamo Il paraurti E andiamo a togliere Lettamente Tutte e due Ci rimettiamo Tutti belli belli nuovi E andiamo a migliorare Anche l'handling Perché mamma mia ragazzi C'è questa moto Non si porta Comunque Questa moto Non si porta Non si porta Allora Allora Dobbiamo svitare La pinza Che andiamo a togliere Vabbè Dopo ce ne andiamo a rimettere Ma non è un problema Vai Allora Adesso Facciamo Assembly Ci rimettiamo Questo qua Parte non Ah Perché dobbiamo cambiare Anche tutta la forcella Giustamente Dobbiamo comprare Anche la forcella Adatta Eh vabbè Allora ragazzi Scusami Abbiamo fatto 30 Facciamo 31 Peppino Cioè Non Cioè Peppino Non si fa Problemi Peppino Non si fa Problemi Allora Compriamo questa E passa la paura Quindi Allora Dobbiamo smontare tutto Però Dobbiamo smontare tutto Cioè raga Porca miseria Per Per cacciare una cosa Dobbiamo smontare Veramente tutto Aspetta Allora Smontiamo Porcel Ah no Proprio qua si parte Proprio da Dalle manopole Proprio Vai Togli tutto Togli Togli tutto Togli tutto Eh vabbè raga Dobbiamo smontare L'intera forcella Lo smontiamo Visto che comunque Eh Tanno ci fa anche Cresci i punti di Di obilità Anche Peppino Va a crescere comunque Vai Eh qua c'è un po' di viti Qua dove vai zitta la chiave Sai com'è Poi c'ha Quell'obiettivo in più Quell'extra da fare Vediamo che cosa da fare Ragazzi Nel caso non fa niente Non la facciamo Allora Dobbiamo smontare Le luci Eh questo lo so C'è tanto C'è solo un bullone Va bene Quando sono solo un bullone Si fa tranquillo Chiave a brucola Chiave a click E si passa la paura Allora Dobbiamo smontare Questo Questo E andiamo a smontare Il faro Oppure questo C'è solo un bullone E possiamo Finalmente Smontare la forcella Vai Va Due vitarelle Questa Poi subito Scivola Scivola Beh Ok andiamoci a togliere Quee E andiamo a togliere la forcella Ok ragazzi Possiamo riassemblare Mettiamo quella nuova Bella Tac Eh no però aspetta Mò ci dobbiamo rimettere Questo però Vai Eh no Aspetta Fè 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 Siamo calmi Eh ci dobbiamo rimettere A sempre C'è Dobbiamo rimettere La roba sua Ecco Mò si Mò questo Mò questo Riavvitiamo Eh grande Peppino ragazzi Gran lavoro di meccanica Rimettiamo prima tutti Tutti i fanali E tutto quanto Eh vai Ok rimettiamo Questo Rimettiamo il vetro Ok rimettiamo anche Queste qua Ok E poi raga vediamo Quell'extra non lo so Qual è Paricamente Quell'extra Sarà qualcosa Forse poi Comunque parla Qualcosa di Dopo andiamo a vedere Che cosa si tratta Ok Andiamoci a rimettere Questo Però non ci abbiamo Rimesso una cosa Aspetta Eh mi sa che manca Esatto Questo L'accensione Senza questo Mi sa che è molto difficile Che la moto Si possa accendere Quindi Andiamo a rimettere Andiamo a rimetterci Anche questo Per i specchietti Andiamo a rimettere Le manopole Eh diciamo che La moto L'abbiamo Diciamo Smontata quasi tutta La parte avanti Comunque ragazzi Serviva Sia Sia freni Ma soprattutto La parte di Di sterzo Ragazzi Non sterzava un cazzo Sta moto Porca puttana Visto prima Peppino Già non è un grande esperto Cioè Non è un Che sa portare le moto Insomma Ok Andiamoci a rimontare Questo qua Andiamoci a rimontare Questo E ovviamente La pinza Del freino Ok Andiamoci a montare Anche di qua E poi ragazzi Non ci dobbiamo scordare Di metterci L'olio A tutti e due pistoni Adesso E vedi L'handling L'abbiamo anche Spuntato Sulla lista Ragazzi Quindi Andiamoci a rimettere Il bellissimo Parafango Ok Quindi Adesso Facciamo No Facciamo Scusami Facciamo così Ci andiamo a mettere L'olio Andiamoci a mettere Tutti e due pistoni Così a meno Hanno più monoverbilità E più pressione Compressione E così a meno Ragazzi Facciamo tutto Facciamo tutto Se no Altra volta Ci siamo scordati Di mettere l'olio Casino Il cliente Si era lamentato Peppino Poi gli ha detto Ti regalo altri 5 litri Altri 5 kg D'olio Vabbè L'ha tipo perdonato Insomma Quindi Allora Perfetto Adesso Vediamo Cosa dobbiamo fare Che cos'è Quest'altro extra Che comunque Ci paga qualcosa in più Questa è una cosa Che potremmo O non potremmo fare Però siccome Peppino Ragazzi Servono soldi Quindi Anche per buttare qualcosa Anche di là E quindi Andiamo a vedere Che cos'è Il sedile va cambiato Ragazzi Ha molto logoro Il sedile Allora Andiamo a fare così Stiamo a comprare Il sud E ci compriamo Quello Diciamo Non fa nessuna differenza E mi faccio a comprare Il classico Che comunque ci stava Con il blu E con le caratteristiche Di questa moto Ragazzi Penso che abbiamo fatto tutto Abbiamo completato Tutta Abbiamo anche migliorato I pezzi E tutto quanto Quindi andiamo a vedere E anche l'ex Ragazzi è fatta La moto È ufficialmente Pronta Alla riconsegna Signori Quindi Andiamo Aprire il nostro E-mail Possiamo Ci da 2.751 Dollari E 57 7 punti di esperienza Noi facciamo Finish Andiamo A consegnare Quindi siamo saliti Soprattutto anche di livello Quindi andiamo a vedere Cosa possiamo sbloccare E allora Cosa Allora Avevamo Schillato un po' Siamo andati avanti Con le cose Questo ci può Ci da Più di Più parti Possiamo comunque Portare più parti Questo ci da più Siamo più bravi A individuare A sbloccare parti Da Da riparare E vabbè Allora facciamo così Sblocchiamo questo qua Che ci vogliono però Noi abbiamo un punto Quindi Non possiamo fare niente Quindi nel frattempo Però Io voglio vedere una cosa Moto management Vabbè Ci abbiamo una cosa Spazio nostro Vediamo un attimo Sulla mappa ragazzi Perché c'è qualcosa Da andare a vedere Ovviamente Ci abbiamo Questa rimessa Che comunque Possiamo Anche acquistare In qualche modo Noi E rimetterci a noi A nuovo Questo lo potremmo fare Anche nel prossimo episodio Ma abbiamo Undicimila dollari Ragazzi Però servono soldi Quindi andiamoci a prendere Un altro lavoro E poi andiamo a vedere Nel prossimo episodio La rimessa Che comunque È tanta roba Signori Vai Facciamo questa Quest'altra motocross Che comunque i motocross Si usano per le gare Lo disinta Quindi Peppino Prende un altro lavoro Ragazzi Molto richiesto Sia per le quattro ruote Ma soprattutto per le due ruote Ragazzi Peppino Che non so più Infatti ho detto Si deve espandere Deve aprire un altro garage O deve prendersi Proprio un altro officino Avere proprio Con le licenze Tutto a norma E sono tanti soldi Sono tanti soldi Che deve buttare Ok Abbiamo presa la motocross Oh ragazzi Guardate quanto è bella Allora Questa dobbiamo portarla Accelerazione a 46 Quindi Sarà un problema Di carburatore O di motore Sicuramente dovremmo Vedere quali componenti Aumentano La velocità Qui dopo Andremo a spippolare Sicuramente sul reparto motori Ma secondo me Già addivituato Forse potrebbe essere L'acceleratore Potrebbe essere Lo stesso carburatore Fa passare più aria e benzina Quindi spingi di più Dobbiamo cambiare Le pasticche dei freni E altre cose Più poi Dobbiamo Dobbiamo vedere La velocità Comunque Ha un problema Di velocità Poi andiamo a vedere Comunque Wheel Sono comunque Le ruote Forse Dovremmo cambiare Anche le ruote Forse qui Qualche soldo Andremo a spendere Perché dovremmo Cambiare anche le ruote Quindi poi Vedremo tutto Un po' La cosa che potremmo Fare adesso E fare una cosa così A vedere un attimo Se Comunque La moto funziona Fa un brutto rumore Sta moto Comunque Fa un brutto rumore E niente Quindi ragazzi Andremo a vedere Cosa cambiare Forse dopo Vediamo Sicuramente ci sarà Da cambiare qualcosa Il motore Quindi Ma Comunque Aspetta Già possiamo Spippolare qualcosa Comunque Se andiamo qua Andiamo a vedere Su Su Engine Vediamo Cosa Può migliorare Tipo qua Non migliora niente Quindi non è Quindi mi fa Mi fa pensare Che non è Non è roba di motore Quello che Ha problemi di Accelerazione Quindi Dobbiamo andare a vedere Poi che cosa Ovviamente Li andiamo A cambiare Tipo vedi Qua ci dà più Accelerazione Vedete Ci dà più Accelerazione Quindi dobbiamo Vedere un po' Di componenti Da cambiare Qua ci dà pure Niente Quindi potrebbe Sare questo Ragazzi Questo cavalletto Non so Qualche supporto Del motore Quindi dopo Andremo a vedere Cosa Questo è un episodio Che bisogna Approfondire bene Questa moto Perché ha dei problemi Un po' Meccanici In te Quindi dovremmo Sbontare anche il motore Perché sicuramente Dovremmo vedere bene Ragazzi Però io direi Di fare una cosa così Di fare una salvatina Come sempre Perché la nostra salvatina Ci salva sempre Anzi faremo anche una cosa Risalvatina Fatta sempre due volte Ragazzi Grazie a tutti Di stati con me Con Mozziket Mechanics Monitor 2021 Siamo stati un'altra volta In compagnia di Peppino Stavolta con le due ruote Con il garage Di casa sua Ragazzi Siamo comunque guadagnati Abbiamo fatto anche Un grande lavoro Prima col chopper di prima Abbiamo testato Abbiamo visto che Kung Non frenava Non girava Però l'abbiamo rimesso a nuovo Con grandi migliorie Grandi pezzi modificati Ragazzi Peppino è meccanico Incredibile Ma vi saluto ragazzi Grazie di stati con me Sperate che questo video Vi sia piaciuto ragazzi Condividete questo video Iscrivetevi al canale Attivate la camera Non perdete meno Ragazzi Iscrivetevi Tutti i link sono gratuiti Non vi costa nulla Passarci Ragazzi Ci becchiamo Nei prossimi video E like Qui sul mio canale O sul tubo viola Trovetevi in iscrizione Ragazzi Vi ricordo che domani Sarò in live Dalle 18.30 Su GTA 5 Sulla Vera Milano Con le forze dell'ordine italiane Quindi non mancate Qui sul canale youtube E giovedì Sul tubo viola Sempre alle 18.30 Ovviamente Sempre Con GTA E sulla Vera Milano Ragazzi Detto questo Mega bacio Vi auguro una buona giornata E grazie di con me Ciao alla prossima Ciao alla prossima